Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Correnti più fresche e instabili provenienti dal nord Europa fluiscono nel Mediterraneo passando dai Balcani persisteranno anche nei prossimi giorni mantenendo quindi l'Italia centro-meridionale al di sotto di correnti più instabili quindi foriere di acquazioni e temporali anche le temperature non subiranno grandi variazioni resteranno attorno alle medie del periodo. In Abruzzo nel corso di questo martedì 23 agosto una giornata instabile nei settori interni quindi possibilità di acquazioni e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane le primissime ore della sera fenomeni abbastanza isolati però localmente di forte entità un po' di addensamenti anche sulle coste però con rischio di pioggia molto molto più basso relegato principalmente alle prime ore della giornata. Le temperature stazionarie massime tra i 25 e i 28, 29 gradi minime tra 15 e 22 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni